ed eccovi qua siamo nella piazza centrale di ferruzzano da dove si vede buona parte della vallata centrale e allora cominciamo con una carrellata laggiù c'è africo africo nuovo che fu costruito in seguito all'alluvione del 1953 e poi lateralmente ci sono le prime case di bianco adesso ci sposteremo in una zona in una zona da dove si verrà tutta la locride tanto vi faccio una bella carrellata del mare guardate perché la calabria per questo è bella per questo accoppiamento mare montagna infatti dalla montagna si vede il mare cosa rara specialmente nelle regioni del nord intanto giriamo un po l'obiettivo guardate che immensa vallata bellissimo perruzzano e complimenti agli abitanti di perruzzano che purtroppo oggi vivono in gran quantità al nord emigrati quindi qua sono rimaste pochissime persone giriamo non so se il sole da pastiglio un po alle immagini ecco guardate tutta la costa che poi laggiù c'è anche branca leone marina quindi tutta la costa dell'onio qua vediamo la branca leone a bianco interrompiamo qui per il momento